Grazie Ministro, noi sosterremo l'analogo processo relativamente alla pasta e il gano che lei ha citato ed ha annunciato qui oggi proprio perché siamo preoccupati dalla tempistica dell'Unione Europea rispetto alla normativa europea di tutela dei prodotti made in ma siamo soprattutto preoccupati da quello che può uscire da quella normativa poiché noi stiamo subendo in vari settori, quello della pasta l'ha citato lei, il latte ne abbiamo parlato precedentemente allo stesso modo i salumi, una contraffazione notevole dal punto di vista che ci fa mancare prodotto interno lordo, che ci fa mancare indotto e che soprattutto non consente alle nostre aziende e ai nostri consumatori di valutare per filo e per segno la qualità dei prodotti noi vi invitiamo a proseguire su questa strada, continueremo a farlo proprio funzionalmente rispetto al fatto che l'Unione Europea non so quanto ci possa consentire spazio di tutela dei nostri prodotti visto e considerato che i nostri prodotti sono i più contraffatti anche a livello europeo, per cui noi continueremo ad insistere da questo punto di vista e vi appoggeremo sicuramente nel contenzioso, se mai ci sarà, con l'Unione Europea a tutela dei nostri prodotti e delle nostre aziende ma anche e soprattutto a tutela della salute dei consumatori. Grazie.